Terza sconfitta consecutiva in trasferta per l'Alba Verde, in casa di una regionna setata di punti salvezza. Ancora una delusione fuori dalle mure amiche per le Nissene per un passo falso molto più netto di quando non dicano i pundeggi. Nelle ultime tre gare in trasferta, in ben 5-7 su 9 persi, le pallavoliste Nissene si sono trovate in situazioni con o netti vantaggi iniziali al pundeggio o in fase di rimonda a due punti dalla vittoria del parziale. L'epilogo è stato sempre la perdita del set con due punti di scarto, come del resto era accaduto a gioiosa Ionica. Anche nella gara persa a Reggio Calabria, il rendimento del complesso squadre delle singole giocatrici è stato quindi in maniera decisiva sporcato dalla prestazione nelle fasi decisive della gara. L'Alba Verde torna dalla seconda trasferta stagionale in Calabria con 0 punti, guardando da lontano lo zafferana volare e interrogandosi su un futuro che, dopo quattro sconvitte su sette gare disputate lontano dal Palacannizzaro e con tanti trasferti ancora da affrontare, mantenendo questo trend sembra attualmente talmente nebuloso da offuscare qualsiasi tipo di sogno di gloria. Appuntamento per l'Alba Verde, sabato 11 febbraio al Palacannizzaro contro la Brico City. La classifica Zafferana 38 Pallavolo Crotone 32 Alba Verde 31 Procorie Ricina 30 Fidelis Torretta 28 Gioiosa 27 Cus Catania 25 Saracena 19 Voleiregione Funivia Etna 18 Brico City 12 Ardens Comiso 6 Stefanese 6 Planet 4